grande partecipazione ieri pomeriggio per il primo incontro sulla fibromagia nell'ambito del progetto percorso benessere ad accogliere i pazienti amici c'è stata anna de rosa vice presidente di hauser salerno noi insieme e ideatrice del progetto con anna de rosa l'avvocato carminuccia marcarelli referente all'associazione italiana sindrome fibromialgica il laugther yoga leader della risata è stato un piacere assistere al suo intervento hai dichiarato anna de rosa la sinergia tra le nostre professionalità e competenze ha reso l'evento davvero speciale portando gioia e benessere a noi stessi e ai partecipanti e reciproco questo ringraziamento ha detto carminuccia marcarelli ringrazio chi ha partecipato la condivisione del tempo lo considero un regalo grazie a tutti per la partecipazione sia fisica che emotiva grazie a tutti